Cosa significa per voi mangiare in sicurezza? La conservizia per noi è importante perché ci dà un'ottima mano e un aiuto per quanto riguarda la sicurezza alimentare, sia alimentare sia anche la sicurezza sul lavoro. Considero questo che noi, con i miei ragazzi, con il mio gruppo, con la mia squadra, abbiamo fatto un corso appositamente per poter comunque salvaguardare i nostri clienti e l'alimentazione, per come dare una buona alimentazione ai clienti. Considera che su tutti... Chi non si forma si ferma, no? Bravissima, bravissima. Tu consigli, adesso ti faccio vedere questa ciotolina che non è altro che dove c'è il tonno all'interno. Ok. Viene segnalato il tonno e la data di preparazione. Sì. E da loro è stato, ci consigliano come dobbiamo fare per mantenere la sicurezza. Ok, impossibile sbagliare questo, no? Brava. Anche perché almeno tu ti ricordi di quando tu l'hai preparato, il prodotto quando l'hai preparato e poi da lì nel momento può passare un massimo di 4 giorni. E ovviamente avete anche voi il vostro certificato di eccellenza del mangiare in sicurezza. Certo. Che, dato che ci sono, scusami Giovanni, ricordiamo che è un progetto che fornisce al consumatore una selezione di attività che, oltre a seguire le normative vigenti in materia di sicurezza alimentare HACCP, hanno aderito volontariamente ad un protocollo ristrittivo mirato a garantire massimi livelli di attenzione per igiene, procedure di conservazioni e lavorazioni, formazione del personale a tutela della salute dei consumatori. Andate a dare un'occhiata al sito www.mangiareinsicurezza.com www.mangiareinsicurezza.com